La domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi almeno una volta nella vita è come posso fare per fare tanti soldi? Per molti questa rimane solo una domanda e non viene tradotta in azione per svariati motivi. Per altri invece la risposta sono i gratta e vinci. Pensate che nel 2019 gli italiani hanno speso nel gioco d'azzardo più di 110 miliardi e mezzo. Sapete quanto hanno speso per i libri? Solamente 3 miliardi. Secondo voi chi diventa ricco più facilmente? Quello che gioca alla lotteria o quello che la organizza? Io sono Alessio e in questo video vedremo quali sono le 4 vie che il samurai povero può percorrere per diventare un samurai ricco e quali caratteristiche sono consigliate per ciascuna via. Chiaramente esistono decine e decine di strade che uno può intraprendere per diventare ricco ma tutte queste vengono incorporate in queste 4 macroarie. Prima area, mercato immobiliare o real estate. L'immobiliare è la prima grande via che uno può intraprendere per diventare ricco sia che i soldi derivino da una rendita di immobili in affitto o arrivino da una plusvalenza creata da una compravendita immobiliare. Questa è l'area in cui mi muovo io e che mi appassiona di più tra le 4. Le tecniche che si possono usare sono molte, mercato libero, aste, saldo e stralcio, cessione del compromesso, crediti immobiliari, terreni edificabili eccetera eccetera. Serve un capitale di partenza per queste operazioni? Non necessariamente. Se hai un tuo budget e vuoi utilizzarlo per fare una compravendita o un'operazione in generale sia libero di farlo, chiaramente ti prenderà i tuoi tempi e sarai relativamente più tranquillo per le tempistiche perché non hai scadenze. Oppure, oppure, potresti aprire un mutuo invece per comprare casa per fare un'operazione immobiliare. Chiaramente non devi avvisare la banca di questo ma una volta finita questa operazione tu puoi prendere i soldi estinguere il mutuo e aprirne un altro per fare di nuovo un'operazione immobiliare. Praticamente stai facendo operazioni con i soldi della banca. E se per qualche motivo non hai la possibilità di accedere a un mutuo ci sono altre due strade che puoi seguire. O trovi un finanziatore esterno proponendogli un'operazione immobiliare attraverso un business plan oppure attraverso delle piattaforme di crowdfunding. In pratica potete fare operazioni utilizzando 0 euro ma se proprio volete utilizzare i vostri soldi ma avete un budget limitato di 15-20 mila euro potete fare un'operazione che si chiama cessione del compromesso. Affronteremo questo argomento nel dettaglio in un altro video. Il lato negativo è che se fate un errore troppo grande cosa che non succede se studiate abbastanza e vi avvalete di professionisti che vi seguano durante l'operazione usufruendo dei loro consigli fate il botto e col... che vi rialzate. Quindi direi che le scuse stanno a zero. Seconda area business aziendale qui le opzioni sono talmente tante che se dovessimo elencarle tutte staremo qua fino a domani. Qui si tratta di aprire un'attività ma attenzione non mi riferisco alle attività di quartiere. Lì diventate semplicemente schiavi di voi stessi a prescindere dal vostro fatturato. Qui si tratta di vendere un prodotto a milioni di persone o venderne pochi ma costosissimi. E non esistono barriere spaziali tali per cui il vostro prodotto non possa arrivare in ogni parte del mondo. Il prodotto può essere qualsiasi cosa un'app, un prodotto alimentare cuscini, canne da pesca, prodotti edili software, corsi di formazione franchising eccetera 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 Dal mio punto di vista questa è l'area più complicata perché deve avere nozioni su tantissimi campi contabilità, vendita, gestione del personale copywriting, marketing conoscenza di strumenti informatici eccetera eccetera a prescindere dalla quantità e qualità dei collaboratori di cui vi avvarrete. Qui per partire potenzialmente non vi servono soldi perché esistono decine e decine di finanziamenti statali che mettono a vostra disposizione. Terza area Royalty Le Royalty sono soldi che entrano in maniera automatica per qualcosa che avete creato precedentemente una sola volta. In questa categoria rientrano i brevetti ovvero invenzioni che avete fatto e registrato tali per cui ogni volta che questa invenzione viene venduta o acquistata voi ricevete dei soldi. Diritti di autore Se create una canzone, scrivete un libro o girate un film ogni volta che qualcuno usufruisce della vostra creazione a voi arrivano dei soldi. Network marketing Se create una rete di distributori di prodotti o servizi ogni volta che la vostra rete fa del fatturato a voi arriva in maniera automatica e in diretta una piccola parte di quel fatturato. Quarta area Trading e investimenti Questa è l'area che ora va più di moda e infatti è quella che più assomiglia al gioco d'azzardo e infatti è quella dove più persone perdono soldi soprattutto nel trading Per investimenti di solito ci si riferisce al mercato azionario obbligazionario o aziende non quotate in borsa Per trading si intende un'operazione che va da pochi minuti a poche settimane dove potete comprare o vendere materie prime forex ovvero soldi Criptovalute Altri strumenti finanziari inventati unicamente per la speculazione E per fare ciò a prescindere dalla facilità con cui potete iscrivervi a una piattaforma per operare serve tanto studio ma tanto e non bastano quindi 3-4 video di 15 minuti che trovate su youtube Mi rispiace non basta Qui a differenza delle altre tre aree servono soldi vostri perché nessuno vi darà mai dei soldi per fare il trader E purtroppo sotto i 10.000 euro i risultati anche per un trader vincente saranno trascurabili Per non parlare degli investimenti a 20, 30, 40 anni dove i soldi li vedete forse quando ormai siete vecchi Perciò in questo caso e solo in questo vale la regola che per fare soldi servono soldi Inoltre con il trading molte posizioni vengono chiuse in perdita e bisogna avere quindi sangue freddo per non cedere al panico e considerare queste perdite come parte del lavoro E non è per tutti Io sono uno di quelli che col trading si è fatto male Sicuramente ci riproverò nel futuro quando le mie competenze saranno adeguate ma nel frattempo mi dedico agli immobili E voi? Quale delle quattro aree preferite? Scrivetelo nei commenti e nel frattempo vi invito a iscrivervi mettere un like e azionare la campanella per seguire tutti i prossimi video Per ora ci fermiamo qui Ci vediamo al prossimo video Grazie per la visione